no headshot me niente ah sono già sovrappeso a 36 kg sono sovrappeso anche io sono già sovrappeso adesso ho trovato due fuel da 60 ottimo prendili va così non sei sovrappeso più gamma e spera di sovravvivere e spera di sovravvivere praticamente ti plug e giforo ho completato due quest e qua nel erdo ora manca solo di uscirne scav no player sono flashato di brutto non vedo un cazzo sono dietro al container vado e degranato sta correndo dietro sta correndo dietro sta andando in su no dietro muro avanza mi ha fatto una gamma ha preso il filo spinato si è lì è lì è lì è lì mi è riuscito a fare una gamba un colpo ha sparato mi ricostruisco la gamba paul ma è qui dietro di noi no credo che sia dentro dentro il muro sì l'ho sentito dietro in collina sto andando a vedere ho sentito bene infatti questo ha ucciso un player ok come vai bene questo ha ucciso uno io ho ucciso lui non so se era in gruppo ma infatti sto guardando le brecce sono ancora dietro ok sei sulla strada no aspetta io sono sulla strada dove c'è la stasha sì 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 io sono qua sulla collina sento camminare sei tu io sono più avanti sono dove c'è tutta la robetta i container bla 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 ah ok devo camminare sei tu quindi ok ti devo andare a luttare? sì sono già qui ah uno era lì era l'altro l'hai fatto già luttato? no cioè sto guardando uno c'è da vedere quello che ho ucciso io o le whiston l'altra tipa cosa c'è su qua? c'è l'rpk è l'rpk livello 12 con l'rpk ok c'è nient'altro che può servire a me? sì ehm ma vabbè se non glieli prendi casco e ah c'è un trillzip prendo il trillzip sì sì c'è scuola stash mhm quake mack e robè proiettili 9 mm del cazzo sono praticamente tra i rip e i pso i pst quelli che cazzo sono mongi man che cazzo era quello lì? era il mitraglione comunque si va diretti all'estrazione oh visto c'ho 14 quest addosso aspetta io mi faccio questo poi andiamo che sto diventando gridi gridi c'è il cecchino fatti lo vuoi fare o lo lasci lì? o lo lasci lì? o l'rpk e meno male che c'era l'hexagon di quell'altra quindi l'ho messo sull'rpk a me non è una vietà di fare un macello di qua sono passati può vedere se c'ha la red kicker nelle tasche? no che cazzo fai? ricupero stamina mentre mi muovo è l'unico modo stiamo un serpente che scorreggiava ah questa l'hanno guardata lì stash si vede che è l'unica che conosco via nessuno mi vede wow ha un flash sei passato bello veloce velocissimo se lutto anche solo una scorreggia probabilmente la mia velocità di corso è la stessa della camminata riposati un attimo e prega e prega Dio che la barchetta sia su che su 40 o 50 raid solo custom solo una volta ce l'ho vista è un casino quando strisci ragazzo mio si pressionato e meno male hanno ridotto il suono si si ci sono due barchette quale vuoi quella grossa ah no c'è c'è yeah aspetta la metto la metto io grazie a tutti Grazie per la visione!